Posti una buona Bra ma anche una bellissima Domodossola, secondo il mio parere Marco. È bello perché abbiamo dei pareri completamente opposti, per me è la peggior partita che abbiamo giocato. Bruttissimo atteggiamento, senza testa, una partita che si doveva vincere di 25 punti. Se giochiamo così non andiamo da nessuna parte. A parte qualcosa che ovviamente voglio salvare, in questa partita voglio dimenticare in fretta tante cose. Ecco, è comunque una nota positiva, è comunque la seconda vittoria consecutiva dopo la scompita di trecate. E comunque sono due vittorie di fila. Sì, ma noi se vogliamo provare a stare prima in tre vincendone due, perdendone una, vincendone tre, perdendone una, dobbiamo dare una continuità di cinque, sei, sette partite consecutive. Ma soprattutto dobbiamo dare una continuità di gioco, un senso a quello che facciamo. Non si sta vedendo, non si sta vedendo, è chiaro che se voglio vedere qualcosa di più la responsabilità è mia. Lavorerò per cercare di migliorare alcune cose, certo che certi atteggiamenti vanno preclusi assolutamente. Ecco, l'ultima cosa, velocissima, domenica c'è il big match ad Alba, Domodossola c'è. Sì, ma noi speriamo di esserci tutte le partite. Alba è la prima, ne ha persa solo una, la prima poi ha sempre vinto. Per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà perdere, speriamo che sia domodossola. Ma soprattutto dobbiamo dare una continuità di gioco, un senso a quello che facciamo. Non si sta vedendo, non si sta vedendo, è chiaro che se voglio vedere qualcosa di più la responsabilità è mia. Lavorerò per cercare di migliorare alcune cose, certo che certi atteggiamenti vanno preclusi assolutamente. Ecco, l'ultima cosa, velocissima, domenica c'è il big match ad Alba, Domodossola c'è. Sì, ma noi speriamo di esserci tutte le partite. Alba è la prima, ne ha persa solo una, la prima poi ha sempre vinto. Per la legge dei grandi numeri prima o poi dovrà perdere, speriamo che sia domenica. Però ripeto, devo vedere un'altra squadra degli altri ragazzi martedì, giovedì e venerdì in allenamento. Grazie.